salve a tutti oggi volevo proporvi questo questo bracciale che io ho fatto di varia tonalità poi logicamente voi vi mettete i colori che più vi piacciono o che gradisce la persona qui destinato il bracciale dunque come occorrente sempre il solito cottone numero 20 e l'uncinetto che ormai uso da secoli numero 12 allora io dire ho scelto questi colori per voi oggi perché mi piacciono molto è abbastanza semplice da realizzare incominciamo scusate col cottone rosa che andiamo a fare il nodino io faccio il nodino molti altri fanno cerchio magico ognuno fa allora adesso andiamo a fare la parte interna del bracciale questa rosa e dobbiamo incominciare a fare 5 catenelle 4 e 5 poi nella seconda che questa qua andremo a fare 2 e 4 ok io ho detto 4 perché ho contato anche le catenelle poche parole dovremmo fare una fila di quattro punti alti chiude insieme tipo nocciolina così deve venire fuori una nocciolina quindi andremo a fare nuovamente 5 catenelle nella seconda facciamo tre punti alti e andremo a chiuderli così come la nocciolina altre 5 catenelle e sempre nella seconda facciamo tre punti alti che andremo a chiudere dobbiamo fare una fila così tutto di noccioline dunque io ne ho fatto 18 per la misura del mio polso che 17 così ovviamente voi contate quelle che occorrono per la vostra misura allora siccome lavoro come sempre il ripetitivo taglio un po il video e 5 siamo arrivati quasi alla fine ce ne mancano due andiamo a fare nella seconda catenella i tre punti alti il primo qua chiudiamo e facciamo la nocciolina 2 4 e 5 quindi chiudiamo assieme questi punti alti viene fuori una piccola nocciolina ok puntiamo uncinato nella prima così e automaticamente viene adesso che abbiamo terminato teniamo un po di più così che poi ci servirà per allacciarlo adesso il bracciale non è terminato perché questa questa qui la sua forma finale no quindi quando l'ho fatto mi pareva carino pure così poi ho detto che mi sarebbe piaciuto mettergli un bordino attorno perciò mi è venuto in mente di crema degli archetti di catenelle che adesso vi faccio vedere come realizzare questi sono i colori che ho scelto ripeto voi ovviamente scegliete quelli che più si abbina allora adesso con questo colore qua nella prima catenella puntiamo l'uncinetto e facciamo una maglia bassissima così poi facciamo 4 catenelle 2 3 e 4 e andiamo nella prima catenella o meglio diciamo al centro così perché qua rimane la prima catenella che abbiamo fatto sempre dico le 5 e facciamo una maglia bassissima così poi facciamo nuovamente 4 catenelle 4 e cerchiamo sempre il centro dove c'è la catenella così un'altra maglia bassissima 4 catenelle 4 catenelle cerchiamo il centro dove c'è la catenella così un'altra maglia bassissima adesso ci facciamo tutto il giro per velocizzare tagliamo poi mi chiamo per terminare questo lato ecco qua abbiamo raggiunto questo lato qua adesso abbiamo fatto tutto questo lato adesso passiamo dall'altra parte e facciamo lo stesso identico lavoro quindi facciamo una maglia bassissima qua così e ripetiamo 4 catenelle andiamo a cercare il centro qua e facciamo una maglia bassissima poche parole dobbiamo avvolgerlo questo questa nocciolina così 24 cerchiamo sempre il centro qua ecco qui man mano che andiamo avanti ci rendiamo conto che prende forma sembra complicato ma non lo è abbastanza semplice da realizzare anche questo bracciale quindi vi potete sbizzarrire tranquillamente con tutti i colori che volete vedete così 4 catenelle di nuovo una maglia bassissima acqua al centro e andiamo avanti così fino a raggiungere la fine del bracciale abbiamo quasi terminato ci manca di avvolgere le ultime due gemme ecco adesso facciamo un altro punto bassissimo magari qua giusto per dargli un senso di chiusura di uniformità chiamiamolo così abbiamo terminato anche il nostro bracciale ecco questo lavoro ha terminato sto grazioso bracciale da mettere al polso vostro a chi avete deciso di regalarlo avete visto che abbastanza semplice da fare spero di aver spiegato tutto al meglio se ci fosse qualche problema come punto di riferimento vi do il blog quindi auguro buon lavoro e buon divertimento a tutte alla prossima ciao